buongiorno buongiorno a tutti benvenuti puntata speciale e quest'oggi dal pedocin lunedì primo luglio prima trasmissione del punto del mese di luglio e cominciamo subito non alla grande ma la grandissima con il presidente della barcolana mitia giallus che ci è venuta a trovare benvenuto mitia buongiorno grazie grazie dell'invito bello essere qui all'inizio di luglio fresco e giustamente il posto migliore per l'estate assolutamente complimenti per la scelta di questo luogo che è un luogo simbolico per trieste ma soprattutto si sta benissimo devo dire a rietta una giornata calda ma quasi sta veramente bene alla grande è un altro ospite ovviamente molto legata alla barcolana e massimo sembrare fatto mauro ovviamente da anni il presente villaggio barcolana effettivamente insomma sono trent'anni che siamo sul villaggio barcolana abbiamo cominciato prima ai lati destra e sinistra e adesso siamo nel cuore del villaggio complimenti comunque per la location effettivamente qui al pedocini siamo in un posto dove c'è l'ombra c'è il venticello e pertanto insomma si sta bene finalmente c'è il sole anche tra l'altro mi pare che anche il mare sia bello pulito le mucillaggini non non ci sono prima ho dato un'occhiata mi sembra che davvero sia la giornata ideale per per andare al mare e questo poi un'istituzione di trieste devo dire che ho scoperto con un po di così di stupore che ci sono anche del osmosi diciamo tra la parte femminile la parte maschile del pedocini perché come è noto insomma è l'unico muro ormai rimasto in europa e anche questo muro non tiene così tanto perché ci sono donne nella parte maschile non credo che ci siano uomini nella parte femminile a quello no molto gelose della loro parte è giusto ma è giusto perché in fondo questo un muro che sinonimo di libertà perché le donne che magari non si sentirebbero di andare in un bagno diciamo in cui in uno stabilimento balneare in cui ci sono anche degli uomini invece vanno tranquillamente al mare al pedocine quindi trovo che sia davvero anche una forma di di civiltà che è un retaggio del del passato di trieste mi ti abbiamo parlato del mare azzurro azzurro e anche l'appoglio di quest'anno sì questo è l'appoglio della in realtà della barcolana classic con marfi e nai abbiamo fatto un lavoro straordinario per anticipare l'abbigliamento la collezione che è bellissima la polo celebrativa di barcolana è un rosso bordeaux qualcuno ha detto color teran va bene perché la goliardia e lo scherzo in barcolana è benvenuto quindi è una bellissima collezione realizzata appunto in rosso bordeaux con il diciamo dei dettagli in azzurro e questa invece la polo della barcolana classic veramente molto bella si trovano nei negozi di trieste già dal mese di giugno questa è una novità assoluta perché di solito le polo e le t-shirt arrivavano appena a settembre e siamo contenti di aver fatto questo lavoro per consentire a tutti i triestini di andare già nel mese di luglio d'ambassador in piazza della borsa a prendersi la polo della barcolana o le diverse magliette della barcolana iscrizioni già aperte da un po' di tempo come stanno andando ovviamente sempre grande entusiasmo e voglia di 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 mettersi in gioco di divertirsi di gareggiare ma anche di passare una una domenica in famiglia in amicizia in allegria ma guarda sta andando benissimo proprio ieri ho fatto il punto con i nostri responsabili di iscrizione sono già 300 gli iscritti e devo dire che per essere ieri la fine di di giugno sono un numero importante devo dire che c'è un bel clima un clima positivo quest'anno la barcolana è dedicata alle energie positive proprio perché viviamo in un mondo complicato un mondo segnato da tensioni geopolitiche da una guerra nel cuore dell'europa e da una guerra in medio oriente che naturalmente creano preoccupazione creano talvolta anche del pessimismo io credo che si debba invece dare dei messaggi di positività di 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 ottimismo oppure in un quadro naturalmente che è un quadro complicato però la barcolana un evento positivo un evento di condivisione un evento che trasmette gioia e una grande festa del mare una festa della città e quindi abbiamo voluto anche con i colori di di quest'anno cominciare appunto da questo colore che indosso ma i colori della della nostra grafica dare questo messaggio e poi nei prossimi giorni verrà presentato anche il poster della barcolana 56 che sarà una sorpresa benissimo allora attendiamo perché un altro dei grandi momenti clou è il il poster perché ormai insomma è un è un elemento da collezione assolutamente devo dire che anche quest'anno con con il di caffè con carlo bach che il direttore artistico di il abbiamo fatto un lavoro importante è stato scelto insomma un artista davvero significativo nel panorama mondiale quindi nei prossimi giorni sveleremo un poster davvero molto molto bello molto sfidante che in linea con quanto abbiamo detto in termini di energie positive quanto è importante per la tua attività massimo la partecipazione a barcolana visto che insomma ogni anno insomma il villaggio affollato da decine centinaia di milioni di persone io credo che per il pubblico triestino noi andiamo a presentare tutte le novità del panorama internazionale che portiamo a trieste come detto siamo stati in barcolana nel 2015 a presentare clone scan 3d che praticamente realizzavamo queste statuine da invece che fare una fotografia entravi e ti scansionavamo e poi facevamo la statuina pertanto tutto il pubblico triestino si riversa sulle rive ma non solo perché se pensiamo i tre in italia fanno 50 mila biglietti solo nel weekend della barcolana pertanto insomma arriva gente non solo da trieste ma da tutta italia poi se lo vieni a croazia a livello internazionale poi dopo vieni conosciuto ovvio che il nostro pubblico è prevalentemente triestino e poi facciamo anche un'altra cosa che da più da dieci anni la prima pagina dove piccolo dove sei protagonista della barcolana questo ormai è un evento dove ci sono mamme che hanno fatto le fotografie in gravidanza bambini ci sono signori anziani che quando comincia la manifestazione sono già lì in fila pronti a fare questa fotografia per essere in prima pagina del piccolo protagonista della barcolana hanno la parete a casa con tutte queste fotografie attaccate pertanto c'è un momento dove noi come foto mauro ci facciamo conoscere ma lavoriamo anche per il piccolo di trieste facendo una cosa che porta ulteriori 10 mila coppie della barcolana in giro per tutto il mondo perché c'è gente che arriva da fuori il piccolo fortunatamente da la stampa gratuita però devi acquistare il piccolo ci sono signori che arrivano lì prendono dieci coppie per avere poi dopo per tutti quelli che possono essere gli amici che arrivano da torino bolzano dove sia queste benedette coppie effettivamente bisogna dire la verità che per noi ormai è un appuntamento fisso siamo stati i primi a portare i containers nel 2014 che appunto l'avevo detto amiche guarda il futuro sarà quello effettivamente adesso tutti quanti stanno mettendo i containers che sono delle strutture praticamente un container vetrato che come un negozio devo dire che mi fa piacere che la barcolana diventi in qualche modo un momento importante per i cittadini di trieste al di là dei velisti di quelli che vanno a partecipare fisicamente al regata che poi non sono solo velisti ma sono come ricordavi prima luca appassionati di mare ma è un momento di svolta anche per per la città la si aspetta tutto l'anno si dice vabbè questo progetto lo realizzo dopo la barcolana è una sorta di di punto di riferimento per per i cittadini e devo dire che ci sono questi riti la maglietta la foto da fotomauro con la prima pagina del del piccolo che si ripetono e diventano come dire dei momenti che scandiscono la vita delle persone giustamente si ricordava delle foto che le donne fanno in gravidanza e poi negli anni successivi con il bambino che che cresce fino a che a un certo punto partecipa alla barcolana ecco credo che questo sia davvero bellissimo e fa parte dello spirito della barcolana così come l'attività degli imprenditori che si mettono in gioco per fare del proprio meglio in in barcolana si ricordava della progettualità di fotomauro nel 2014 i container e allora effettivamente diciamo ma questo sarà il futuro e il futuro è arrivato il futuro è già qui quest'anno vi posso dire che il villaggio avrà prevalentemente container sia in piazza unità che sulle rive così come le statuette mi ricordo ero venuto anch'io nel 2015 a fare appunto la scannerizzazione non so se ci sia ancora quella statuina però ci sono sempre progetti innovativi eccola qua erano queste queste qua sono le statuine le ho portate perché tra le altre cose io volevo portare la tua statuina che ho conservato per nove anni ma c'è stata una bomba d'acqua il giulia e ci ha legato tutto per cui dovremmo restaurarla perciò che ritorni come questa con tutti i colori però effettivamente è stata una cosa è che siamo stati i primi in Friuli Venezia Giulia sono arrivati direttamente giù da Londra ci hanno portato l'attrezzatura effettivamente dal sindaco Cosolini all'epoca tutti quelli che erano sono venuti dentro hanno fatto questa scansione ma è appunto un ricordo che rimane per sempre ma poi diventa un'occasione per provare delle tecnologie mette alla disposizione della della cittadinanza creare dei nuovi modi per raccontare barcolana per raccontare la città per raccontare quelle che sono le diciamo novità che si fanno che si fanno largo quindi è una è davvero come dire un'occasione bella di di condivisione eccola vedo qualcosa a proposito perché non potevo venire poi dopo a mani vuota allora visto che io sono artigiano rappresento anche il confartigianato barcolana ho portato una delle realizzazioni che viene fatta nel nostro laboratorio in diamo in Avento dove è l'ardesia l'ardesia ogni ardesia è un pezzo unico perché viene cucinato in forno avvolto e praticamente quella che la ziglinatura che viene sui lati ogni ardesia l'ha fatta in un modo diverso che bello grazie no no grazie maggio che noi ti diamo come foto mauro e auspico a una barcolana che sarà sempre di maggior successo perché oramai è diventata mani una manifestazione internazionale seguita da tutti e questa insomma la pietra rimane per sempre sicuramente grazie no grazie mille bellissima bellissima la fotografia applicata è bellissima l'idea della dell'ardesia che poi sono una pietra della lavagna che in qualche modo ci accompagna fin dalle elementari con so se usino ancora elementari la la lavagna però insomma ha un significato importante per per tutti noi quindi grazie grazie davvero e la fotografia ricorda ancora visto che di un amico che è venuto a mancare quest'anno e di paolo giovanini ma fotografo guarda collaborava con noi guarda ti ringrazio tanto per aver ricordato paolo e approfitto per dire che verrà lanciato dal dall'ordine dei giornalisti dai dai suoi amici giornalisti e fotografi una sorta di concorso per giovani fotografi è uscito credo uscirà a giorni un bando per ricordare ecco paolo giovannini l'idea è quella di premiare un giovane under 30 tra i 18 e 30 anni che dovrà presentare una fotografia sportiva paolo era un grande fotografo di sport e cresciuto con la barcolana e ha fatto crescere la barcolana perché pensate che lui lavorava per le agenzie di stampa internazionali e grazie alle sue fotografie appunto come questa la barcolana è finita sulle prime pagine o nelle pagine dei giornali di tutto il mondo e quindi si è deciso appunto di ricordarlo con questo concorso i giovani e le giovani tra i 18 e i 30 anni potranno presentare una fotografia di sport ci sarà un comitato scientifico che diciamo sceglierà selezionerà la migliore o il migliore e gli daremo la possibilità in barcolana di lavorare col nostro ufficio stampa e di andare e questa è la bella notizia la domenica della barcolana sull'elicottero a fotografare la barcolana esattamente come faceva sempre quello che diceva paolo mandarò sull'elicottero diceva ed era sempre francesca capodanno me ciamaranno e poi dopo la fine arrivava sempre su questo però c'era sempre che questo è il punto d'arrivo che sono pochi posti perché se parli dico mo ne hai quanti ne vuoi però elicotteri bravo era sempre su quella arrivano arrivo e arrivava sempre perché arrivava sempre perché paolo era straordinario guarda devo dire che i suoi ritratti erano anche i ritratti delle conferenze stampa poi mi mandava appunto le sue fotografie e riusciva a cogliere sempre il sorriso uno sguardo e quindi ci mancherà devo dire paolo è stata una prematura scomparsa per per tutti ma credo che ecco non era preparato tutto questo era tutto improvvisato tutto improvvisato allora entro ancora con essendo il presidente della categoria fotografi di confartigianato sia provinciale che regionale sono anche in giunta nazionale della mia ampia disponibilità a chi sta organizzando il concorso per qualsiasi cosa perché insomma parliamo di un amico principalmente ma non eravamo qui per questo però da cosa ma c'è cosa la barcolana fa delle belle cose ma noi ovviamente come artigiani le appoggiamo no infatti guarda questa è la magia della barcolana cioè riuscire a trasformare quella che è stata una scomparsa prematura di una persona straordinaria in un'occasione per crescere tutti quanti assieme facendo squadra che la grande qualità diciamo la barcolana che riesce a unire un equipaggio ampio di istituzioni perché devo dire che insomma grazie al supporto del comune della regione friulenza giulia di promo turismo e dell'autorità portuale che nostra coorganizzatrice della capitaneria di porto delle forze dell'ordine da un lato quindi tutte le istituzioni pubbliche dall'altro i privati presenti nel villaggio gli artigiani devo dire i ristoratori insomma tutta una gli albergatori una categoria che si mettono a disposizione è chiaro che bisognerebbe qua un invito insomma che che faccio a fare ancora di più squadra soprattutto in un mondo in una città che sta cambiando ecco perché il turismo è stato lanciato forse da barcolana tanti anni fa è stato uno dei fattori principali di marketing territoriale adesso la città sta cambiando sta diventando una città turistica oggi il tema è quello diciamo di assicurare servizi ai cittadini e ai turisti fare in modo che la città non si snaturi con il turismo fare in modo che i cittadini non si ribellino poi a un eccesso di turismo e questo significa mettere tutti insomma intorno a un tavolo e ragionare assieme anche durante la barcolana devo dire l'abbiamo fatto con con il comune stiamo lavorando per i parcheggi in barcolana è un tema enorme di questa città perché è inutile nascondersi ci sono dei sabati in cui si arriva in centro e davvero non si sa dove sbattere la testa per trovare parcheggio e quindi cerchiamo di trovare degli spazi nuovi delle aree per assicurare che la barcolana si celebri si sviluppi cresca anche in qualità ma senza in qualche modo disturbare troppo i cittadini trieste ancora due temi ovviamente uno dei temi e c'è ma degli argomenti clou che piace i nostri giovanissimi ascoltatori la questione ovviamente anche ludica no l'anno scorso ci hai fatto un grande regalo dando in anteprima la notizia del ritorno dei grandi concerti in piazza unità e in piazza ponte rossa quella nuova location l'anno scorso c'è stata peraltro successo clamoroso 45 mila persone ci sono state per cui un grande grande successo quest'anno ci sarà il bis sempre la stessa zona ci puoi dare qualche spoiler allora l'anno scorso insieme al comune di trieste abbiamo voluto fortemente riportare la musica in barcolana mancava mancava luca la musica perché una colonna sonora di barcolana la barcolana che inizia con un concerto e un'altra barcolana dal il la come dire a una settimana di festa in cui giustamente la città si trasforma anche dalle 10 di sera alle 4 di mattina ed è bello che sia così che ci siano occasioni per ballare per trovarsi per divertirsi quindi quello che posso dirti che anche quest'anno ci sarà la musica sarà in di nuovo in piazza ponte rosso abbiamo provato a lavorare su location alternative a me sarebbe piaciuto portare un concerto grosso in portovecchio ma non ci sono ancora le condizioni perché ci sono ancora dei cantieri diciamo che si aprono in portovecchio ma secondo me è un progetto che come dire il prossimo anno riusciremo a portare a termine stiamo lavorando su un bel concerto molto molto energetico molto divertente con un nome importante vedremo se riusciremo a portarlo a termine un'altra delle novità è proprio l'utilizzo del portovecchio ci sarà un mini villaggio in portovecchio perché la prospettiva è quella di far vivere la barcolana oltre alle rive anche in portovecchio dove ci sono degli spazi straordinari che secondo me devono essere anche messi a disposizione dei giovani per sviluppare dei progetti innovativi questo è un altro argomento la questione ovviamente del villaggio che quest'anno sarà un villaggio molto più diffuso non solo sulle rive ma sempre più interno la città abbraccerà sempre di più la città puoi darci qualche informazione in più anche dal punto di vista delle zone interessate e anche il come stato recepito da parte degli stendisti questa nuova questa nuova linea ma c'è una grande collaborazione è chiaro che un tempo tutti volevano stare bacino san giusto già quando abbiamo introdotto piazza unità d'italia ormai nel 2019 se non ricordo male e nessuno voleva andare all'inizio in personità erano tutti ma no voglio stare sulle rive adesso voglio tutti andare in piazza unità quest'anno ci sarà una piazza stupenda con un'installazione straordinaria che celebra un'eccellenza regionale non posso dir di più ho già detto troppo e ci sarà come si diceva un villaggio diciamo molto elegante con dei container nel bacino san giusto nella parte centrale e purtroppo non riusciamo a estenderci anche come era un tempo verso il salone degli incanti causa navi da crociera perché lì c'è un incastro sempre un po complicato però recupereremo uno spazio verso il ponte rosso e verso appunto il porto vecchio quindi grande disponibilità da parte di tutti gli operatori secondo me dobbiamo metterci nell'ottica di fare qualcosa ancora di più innovativo io quest'anno avrei voluto spingere di più sul porto vecchio non ci sono le condizioni semplicemente perché ci saranno ancora dei cantieri ma confido nel 2025 di spostare ulteriormente il baricentro dell'evento allargandolo per coinvolgere davvero tutta la città e l'altro aspetto importante è che coinvolgeremo anche il carso ci saranno dei concerti sull'altipiano ci saranno ci sarà un coinvolgimento di nuovo di Muggia che negli ultimi anni non era presente quindi davvero una barcolana che abbraccia tutta la provincia di Trieste ci siamo andati a sclusione prego Massimo Fotomauro e anche parliamo della terrazza allora noi siamo già iscritti per cui siamo già dentro siamo al solito posto la terrazza ci sarà come sempre ci sarà del green in più perché l'altranno abbiamo sulla nostra terrazza qualcuno dove abbiamo parlato di green barcolana ovviamente è green e pertanto per l'energia stiamo lavorando con i nostri artigiani per essere autonomi in parte per l'energia che è una cosa che nel futuro auspicherei riuscissero a fare tutti quanti poi dopo per il discorso della barcolana una festa nella festa che sta entrando dentro nella città e bisogna dire che su canale Ponte Rosso hanno fatto veramente delle bellissime cose e mi sembra si stia ampiando il tutto sempre meglio perché la musica ti dà la possibilità di avere la serata tra virgolette del sabato per tutti quelli che vengono anche da fuori ed è molto importante oltretutto si parlava prima appunto di gruppo di tutti quanti assieme io ricordo per la prima barcolana che mi sono visto in Comitia che è arrivato con un astro rosso dove c'era Vora che soffiava e mi ha detto mi aiuti mettiamo in sicurezza il villaggio perché poi dopo ci sono anche momenti dove tutti gli stendisti, compreso lui e io ho preso perché eravamo triestini, eravamo già tutto in sicurezza e ho volato un cartello verso un hostess di Binai e si è detto vai a casa perché effettivamente... Era il famoso 2015, il sabato del 2015, quello delle statuine in cui c'erano 70 nodi di Bora ecco ma tornando alla suggestione che hai lanciato a me piacerebbe riuscire a coinvolgere ancora di più gli artigiani con i loro... cioè portare le persone, il popolo da barcolana dentro i loro laboratori, dentro in città non solo nel villaggio ma dentro la città in modo tale che anche a San Giacomo piuttosto che a San Giovanni piuttosto che a Melara come abbiamo fatto anni fa entri il mare, entri quello spirito di barcolana entri quel supporto dei progetti bellissimi che ci sono perché oggi rispetto alle multinazionali, rispetto ai centri commerciali con tutto il rispetto naturalmente per tutti ma credo che l'artigianato, il lavoro dei singoli nei rioni vada assolutamente valorizzato e vada supportato anche da un grande evento come la barcolana, Trieste ha delle ricchezze straordinarie che vanno valorizzate e quindi costruiamo assieme anche con gli artigiani questo progetto Allora io ti do la più ampia disponibilità perché essendo anche economo della Confartigianato di Trieste lancerò questo tuo messaggio all'interno della Confartigianato e dell'associazione di categoria in modo in maniera che si riesca a trovare un punto magari in barcolana dove ci sia una semplice mappa di Trieste dove ci sono le eccellenze di questi laboratori e uno magari che arriva da fuori oltre che fare il giro nel villaggio barcolana però trovi un posto dove gli danno indicazioni dove possa trovare appunto il miglior artigianato, i laboratori Anitano come hai detto io sono a San Giacomo, hai citato proprio perché sono a San Giacomo e dall'altra parte sono a San Giovanni ma riescano anche, non parlo per la mia attività ma per l'attività appunto Di tutti, vedi come... Esatto, questa è la sede in cui ragionando assieme nascono dei progetti, a me piacerebbe proprio che ciascun artigiano magari metta chi diciamo il falegname piuttosto che costruisca qualcosa dentro il suo laboratorio per barcolana e che possa essere un'attrazione per portare le persone adesso sono arrivati appunto anche dei turisti che parlano in inglese il pedocin bellissimo che possono appunto venire a visitare i laboratori per valorizzare gli artigiani per valorizzare le piccole botteghe con magari il poster della barcolana con diciamo un'occasione in cui tutti si sentano parte di uno stesso equipaggio la barcolana tante volte vengono richiesti alla mattina presto uno magari vende anche il poster della barcolana e lo fa volentieri perché tutti appoggiano la barcolana all'interno di un centro commerciale nell'orario magari che non c'è l'apertura assolutamente, no no assolutamente questo come dire un impegno che nasce qui Luca quindi è in diretta e noi ci vediamo speriamo il 3 di ottobre sulla terrazza poi dopo insomma assolutamente ultimissima domanda e c'è già le date di inaugurazione del villaggio quando si potrà visitare? direi che il venerdì appunto 3 ottobre si parte sabato 4 abbiamo diciamo l'apertura con il concerto e poi il 4 apertura del cuore del villaggio barcolana sup a grado che è un altro appuntamento al quale è bello che partecipino le famiglie, i giovani e poi si parte per 10 giorni della barcolana 56 benissimo ringraziamo non posso sbagliare perché sono i miei anni ah benissimo e sei nato con me con la barcolana allora buona estate a tutti gli amici di Trieste Caffè ci vediamo comunque prima di settembre per cui ci saranno altri appuntamenti però il prossimo credo che sarà per lanciare questi progetti di condivisione durante la barcolana grazie a tutti grazie a tutti patrón si può dire patrón della barcolana? presidente della società velica dai mi piace di più perché c'è una squadra enorme la persona è triestina patrón no ma pensa che l'anno scorso ha lavorato alla barcolana 700 persone quindi se si ricorda il parón Rocco va bene però non voglio... patrón, patrón patrón, patrón però ecco diciamo che in realtà è una bella squadra a me non piace come dire essere definito l'unico ma semplicemente il volto di un equipaggio straordinario che lavora tutto l'anno per la barcolana che voglio ringraziare facciamo, diamo un grande abbraccio un saluto a tutto lo staff diamo un grandissimo saluto a tutto lo staff cominciare da Piero, Carolina, Annalisa, Tullio, Eleonora, Paola, Rosanna, Natasha che stanno lavorando anche questa mattina per realizzare questo grande evento di tutta la città e ancora un ultimo appello è a iscriversi al Candida al tuo evento sul sito di Barcolana trovate la possibilità di iscrivervi per costruire un evento assieme e portarlo in Barcolana entro il 20 luglio se non sbaglio entro il 20 luglio anche perché l'altro anno noi abbiamo fatto un evento fatto al volo il sabato sarà che era l'IS che praticamente Barbara Cova spiega tu che praticamente fa gli aperitivi silenziosi gli aperitivi silenziosi mi è passata là e mi ha detto io vorrei fare qualcosa in Barcolana io ho detto beh allora ascolta domani vieni qua con e abbiamo fatto l'aperitivo silenzioso ecco la lingua dei segni però quelle sono le cose che non potevo neanche pensare di chiedere il permesso a Barcolana l'ho fatto su mia iniziativa ma effettivamente tanto non facevano neanche rumore però Barbara Cova così come altre associazioni insomma è bello se candidano al loro evento e se si candidano anche per quello che è diciamo la Barcolana solidale cioè chi si iscrive alla Barcolana può supportare dei progetti di solidarietà e quindi c'è da un lato diciamo la componente di condivisione dell'organizzazione della Barcolana e dall'altro il fundraising per progetti sociali che richiedono appunto un supporto da parte di tutti quindi noi ci siamo Benissimo Devo solo anch'io ringraziare tutto lo staff della Barcolana in particolare Annalisa Cosmina doppiamente facendoli le congratulazioni in tutti i sensi Esatto infatti anche perché Annalisa quest'anno insomma vive una bellissima maternità quindi Barcolana dai Ecco tutto lo staff Tutto lo staff festeggerà appunto Annalisa e Matteo Grazie ancora mi scuso per avervi tenuto più di quanto vi avevo anticipato però anzi grazie per la vostra scusita disponibilità appunto nel darsi tante belle informazioni grazie Mitia, grazie Massimo un saluto a tutti e anche grazie a Deborah per averci seguito dalla regia un saluto a tutti e arrivederci guarda guarda